Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Grazie a tutti Bollito down! NICE! Cosa? Oh! Cosa! E? Oh! E? 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 38 E? E? 38 E? 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 è che si le porto l' Something è addirne Sì La leggerla che si le porto l'Что un' Streeto l'Italian Sì Questioni di farlo Angrupore mi piace si è un po' si è un po' non 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 si 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 looo返s ooo返s orenja orenja ooo 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 o o o o o o o o C'è chi è ugualdo? Non si riuscita a te in l'aria, non si chiama non c'era. Non si riesce a usare in fronte. Un'altra! 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 Samo Si Il segno Si Bollete 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 Cosa Come Cosa Cosa Sì Quindi facciamo un po' di questo tipo di modificazione. Ma questo tipo di modificazione. Nesumi. Nesumi. Non c'è l'ultimo. Non è 1930. Tutto un molichio. Alcumato a tutti i dai là umani E' un po' il gioco Ma l'eho rete è ova' Ma l'eho rete sui E' un po' le panna To- to'o ga e? To'o ga e? E' un po' le panna Eure D'Eco! Eure D'Eco! Pionda! Bota Gia! O'ho ahamo! E? Ehi Sì Sì c'està Sì E' la l'era, per quanto tempo. D'accord. E' la! E' la l'aria di un'itri. E' la l'aria di un'itri. E' la l'aria di non. E' la l'aria di non. E' la l'aria di un'itri. E' la laria di un'itri. . 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 Sì Assolutamente L'estero vediare in un momento Eccolo 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 Mi ricorderò Eccolo Sì Sì Non c'è il giro, tuoi. Non c'è il giro. Non c'è il giro. Non c'è il giro. Sì, si è iniziato. Oh, c'è l'altro! Sì, 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 c'è l'altro! Ahahahah Sì, è stato il caso di l'ispo. È stato il caso di l'ispo. È stato il caso di essere un caso. Sono stato il caso del terno. Ascettiamo. Un'altra volta. Un'altra volta in un'altra volta. Sì, è stato il caso. Un'altra volta in un'altra volta? Sì, si è tornato bene la scuola? Sì, ma che è tornato bene? Si è tornato bene? Sì, ora è tornato bene?